Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Il deputato Luigi Famiglietti era certo d'aver messo a segno il colpaccio giocando su due tavoli diversi e con due diversi mazzi di carta. Con un miserabile 5% di tessere, ma grazie all'aiuto del plenipotenziario Luca Lotti, era riuscito a convincere del basso De Caro da una parte, Rosetta D'Amelio e il De Luca Irpino dall'altra a convergere sul nome di Beniamino Palmieri per la segreteria provinciale del PD. Poi si è capito che contemporaneamente il furbetto di Frigento brigava a Roma contro il suo benefattore del basso De Caro in vista delle prossime politiche. Gioco scoperto, addio Palmieri segretario, morale della favola. Famiglietti ha tendato di fottere e come merita è rimasto fottuto.